Buongiorno a tutti e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa sportiva di Udinese Channel. Come ogni mattina, anche quest'oggi, andremo a vedere i principali titoli riportati dai giornali locali e nazionali, andando a vedere quelle che sono le principali notizie sportive, ma ovviamente ci soffermeremo su quelle che riguardano l'Udinese, che questa sera è impegnata in uno scontro molto importante, quello contro l'Empoli di Sarri, per cercare di tornare alla vittoria, per cercare di far punti e per cominciare al meglio questo girone di ritorno. Andiamo a vedere quindi subito il primo titolo di oggi, quello del messaggero Veneto, che appunto nella pagina sportiva dedica questo titolo all'Udinese, la svolta del campionato alle 19, cioè il posticipo a Empoli per volare in alto in classifica o finire nelle sabbie mobili. Stramaccioni parla di scontro diretto, ma allontana gli spettri del fondo classifica. Sguardo però anche agli altri titoli, sempre nella prima pagina sportiva, in primo piano anche il basket. Gessa è a forza 20, Arzegnano battuto, è ora la quinta di fila. Continuiamo però vedendo anche il titolo del calcio. Lega Pro, il Pordenone scippato al 94esimo minuto, pari, strettissimo. Tornando a parlare invece dell'Udinese, si parla anche di quelle che sono comunque la lotta per lo scudetto delle altre formazioni di questa Serie A, in particolare della Juve e di un Pogba, che viene esaltato dal club bianconero. Gomez invece frena la Roma, ora è a meno 7 dalla vetta. sabbie mobili invece per il Parma e Cesena vince la sfida tra disperate, Parma quasi in B. Lo sprofondo di Milano in zaghi, ore contate, ma l'Inter non ride, perde in casa con il Toro. Questo è tutto il resoconto della ventesima giornata di Serie A. Possiamo vedere anche tutti i risultati riportati qui in basso. Cagliari-Sassuolo 2-1, Fiorentina-Roma 1-1, Inter-Torino 0-1, Juventus-Schievo 2-0, Lazio-Milan 3-1, Parma-Cesena 1-2, Sandoia-Palermo 1-1, Verona-Atalanta 1-0. Le partite di oggi delle 19, quella tra Empoli e Udinese, il posticipo poi delle 21 tra Napoli e Genoa. La prima classifica aggiornata ovviamente alle partite che sono già giocate, sempre in vetta la Juventus a 49 punti, segue la Roma a 42, Lazio-Sandoria 34, Napoli 33, che quindi con la vittoria di questa sera potrebbe scavalcare Lazio-Sandoria e posizionarsi così da solo al terzo posto. Fiorentina 31, Genoa 28, Palermo 27, Inter-Milan 26 punti. Dalla parte destra invece si trovano Sassuolo-Torino a 25, Verona-Udinese a 24 punti, Atalanta 20, Cagliari-Empoli 19, Chievo 18, Cesena 12 e il Parma soli 9 punti. Parlando di quella che è la trasferta ad Empoli, nella casa toscana di Totò ha le origini del mito. Viaggio a Empoli dove è iniziata la storia del capitano, dopo l'esultanza all'andata potrebbero però fischiarlo. Nella foto vediamo proprio Totò di Natale insieme al presidente dell'Empoli Corsi, amici da sempre, ma oggi avversari. Si parla anche dell'altro gol fantasma, Palermo beffato e Zamparini si infuria. Dopo la beffa della Befana per l'Udinese al Friuni con la Roma, arriva la fregatura anche per il Palermo. La colpa è sempre quella del maledetto gol non gol, il patron friulano dei Rosanero. A fine della partita, che i suoi hanno ben pareggiato a Genova con la Sampa, ancora una volta invocato la Gol Line Technology. Dalla tribuna si vedeva che era gol, ha detto Zamparini, commentando la staffilata di Morganella, che dopo essersi stampata sulla traversa è ricaduta completamente al di là della linea di porta per poi ritornare in campo. Risultato pari 1-1 tra Palermo e Sampdoria. Quindi si torna ancora ad invocare l'aiuto della Gol Technology, proprio per evitare certi problemi. Il posticipo quindi, la trasferta ad Empoli. Udinese a Empoli ha vietato perdere, questo è l'imperativo. Bisogna tenere a distanza i Toscani e il terz'ultimo posto. Gli azzurri non vincono dal 23 novembre, i bianconeri invece dal 7 dicembre. I padroni di casa hanno avuto due giorni in più, però si ricorda, per recuperare, viste anche proprio l'impegno di Coppa Italia. In taglio alto qui vediamo, oltre alle curiosità, ma anche quelle che potrebbero essere le probabili formazioni schierate in campo dagli allenatori. Quindi vediamo subito l'udinese con un 3-5-1-1, dove vede in porta Carnezis, Piris, Danilo Ertò a formare la linea difensiva. Pasquale, Cone, Guilherme, Allan e Widmer il centrocampo a 5 e poi Terò alle spalle a sostegno di Totò di Natale. Empoli invece che potrebbe scendere in campo con Sepa e Traipali, Isai Tonelli, Rugani, Mario Rui per quanto riguarda la linea 4 difensiva. Vessino-Valdifiori croce con il centrocampo, dove c'è Verdi alle spalle di Micelizze, che quindi sembra aver vinto il ballottaggio. E Pucciarelli, sempre a completare il tandem difensivo. 4-3-1-2, quindi il modulo per quanto riguarda la squadra di Sarri. Andiamo a vedere anche quelli che sono i precedenti, perché si parla ovviamente di un Quagliarella in gol, fu all'insegna della vittoria l'ultima visita dell'Udinese a Empoli nella stagione 2007-2008. I bianconeri allenati allora da Pasquale Marino sbancarono il Castellani il 4 maggio del 2008 con il gol proprio di Quagliarella, messo a segno al 17esimo del primo tempo su assist di Gaetano D'Agostino. L'ultimo K.O., si ricorda, sono solo due i successi dei Toscani tra le Muramiche contro l'Udinese. Dopo l'1-0 del 97-98, gli Azzurri hanno ottenuto anche il 2-0 della stagione 2003-2004 con i gol decisivi. Firmati nel primo tempo al 22esimo da Boucher e al 40esimo da Cribari, che al termine di quella stagione fu ceduto all'Udinese assieme a Di Natale e al difensore Belleri. Queste alcune delle curiosità relative ai precedenti. Si parla anche di tifosi perché al Castellani nel settore ospiti ci saranno 50 tifosi bianconeri. Quando l'Udinese, ovviamente si ricorda, giocò a Genova il 10 dicembre 2012 e vinse per 2-0. Era lunedì proprio come oggi. Allora però c'era solo un tifoso, lo vediamo qui, ce lo ricordiamo bene. L'unico tifoso solitario nella trasferta del lunedì 10 dicembre 2012 a Genova. Per questa invece trasferta, anche questa volta di lunedì, però ci saranno circa 50 tifosi bianconeri. Quindi si aumenta sicuramente il numero di seguaci anche di lunedì, nonostante appunto si giochi in un giorno feriale. Le parole di Stramaccioni, ieri in conferenza stampa, prima della partenza per Firenze, per luogo del ritiro proprio dei bianconeri e tra l'altro, vi anticipiamo, poi ci sarà il collegamento proprio con Firenze. Stramaccioni ha detto, anche loro dovranno preoccuparsi, il tecnico non intende snaturare la squadra per contenere il trequartista Verdi e ricorda, dopo il centoventesimo minuto con il Cesena, siamo andati a vincere a San Siro con l'Inter. Anche loro quindi dovranno preoccuparsi dei nostri giocatori. Così ha esordito Andrea Stramaccioni in conferenza stampa, in un momento di emergenza quella dei supplementari era la soluzione meno auspicabile. Ovviamente si va a commentare la faticosa sfida di Coppa Italia con il Napoli. Negli ultimi due giorni abbiamo pensato più che ad allenarci a gestire il recupero dei giocatori rimasti in campo per 120 minuti. Si parla ovviamente dell'Empoli, senza dubbio la squadra rivelazione del campionato. Ha detto Stramaccioni, gioca un calcio veloce, divertente, si vede che il gruppo è da tempo assieme, i meccanismi ovviamente vengono automatici. In casa ha messo in difficoltà tutti Roma, Juve, Inter e Milan. Si parla anche ovviamente di frequenti errori arbitrali che possono comunque essere un elemento di disturbo in questo momento. E Stramaccioni ha dichiarato dal punto di vista umano, capisco i ragazzi per i torti subiti, da allenatore però no. Dopo il gol di Amsic, viziato da un fallo su Conè, Panaghiotti si ha ripreso al gioco calciando via il pallone con un gesto di stizza. Queste cose non le voglio vedere, la rabbia deve durare 5 secondi, non di più. Queste appunto alcune delle dichiarazioni di Andrea Stramaccioni che ha parlato ovviamente alla Coppa Italia, ma anche di quelli che possono essere gli errori arbitrali che vanno a destabilizzare anche dal punto di vista morale la squadra, ma non devono essere sicuramente indicativi e determinanti e discriminanti soprattutto. Le parole di Sarri invece non vuole che i suoi si rilassino all'andata, l'abbiamo fatto e siamo stati puniti, non pensiamo agli altri risultati. L'Udinese però non è soltanto di Natale, queste le parole di Sarri ne è convinto il tecnico dell'Empoli che guarda la rosa bianconera e individua altri tre giocatori da tenere nel mirino per la gara di stasera, vale a dire Widmer e Allan, che sono due giocatori giovani che hanno un futuro assicurato, e Terò che è un attaccante sottovalutato. È una gara importante ai fini della classifica, comunque si ricorda la valenza delle partite in questa fase della stagione è sempre più pesante, tutte le gare diventano importanti, io spero solo di arrivarci bene, le ultime prestazioni hanno detto che nelle sfide con l'Inter, la Roma, la salute dell'Empoli è buona. Che differenza c'è ovviamente anche nell'ottica dell'Empoli con la gara dell'andata? Sarri ha detto a Udine, l'abbiamo persa perché ci siamo quasi rilassati, eravamo all'esordio e dopo un tempo abbiamo capito che ci potevamo stare in Serie A, così c'è stato un calo di concentrazione, stavolta però dobbiamo essere più cattivi, queste alcune delle parole di Sarri in conferenza stampa di presentazione della sfida contro l'Udinese. Voltiamo pagina, pagina ora che è dedicata interamente a Totò di Natale e al suo viaggio, proprio a casa del capitano, dove ha iniziato il suo percorso. Totò oggi a Empoli potrebbero però fischiarti, i tifosi toscani non hanno gradito l'esultanza dell'andata. Le vediamo nelle foto da sinistra, Totò che esulta dopo il gol all'andata in versione avversario marcato da Castromann, al centro invece la gigontografia che campeggia al Castellani, eccola qui, la vediamo, e sopra invece la piazza della Vittoria a Empoli. Luoghi quindi che sono molto cari a Totò di Natale, come il quartiere Ponzano, noi lo chiamiamo il Re di Ponzano. Nel rione la punta napoletana ha investito molti dei suoi guadagni e appunto viene chiamato proprio il Re di Ponzano, è quello il quartiere di Natale. La moglie è di Montelupo, con la famiglia adesso sta oltre la ferrovia, raccontano appunto ad Empoli. La linea taglia la città in due, uno stretto sottopasso governato da un semaforo a due luci rossa e verde ti dà il via libera per imboccare la via che porta al quartiere del Re del Gol. In quella zona Totò ha costruito la villa di famiglia, in quel quartiere il capitano Bianconero ha investito molti dei guadagni del calcio puntando sul mattone, appartamenti e case in un rione residenziale che confina con la campagna empolese, sovrastata dalle colline. In questo quindi il quartiere in cui il capitano Bianconero ha scelto di vivere e di investire la maggior parte dei suoi introiti. Ha parlato anche il presidente del club toscano Corsi e ha detto a un amico per lui le porte saranno sempre aperte. Queste le parole appunto del presidente dell'Empoli che ha scoperto Mr. 201 Gol in A. Ha detto già più volte che poi che si ritira, poi ora però lasciatemi pensare. Alla partita parla quindi Fabrizio Corsi, il presidente dell'Empoli, lo scopritore in termini ovviamente dirigenziali di Totò, ma anche l'amico. Stavolta non ha voglia di parlare di lui, taglia corto il numero uno del club azzurro cercando di sottrarsi dal rito di una vigilia che non può essere normale visto l'annuncio dell'addio all'Udinese filtrato in settimana dopo l'incontro con il paron Gian Paolo Pozzo. Ma Corsi fa parte della categoria di presidenti tifosi e sente davvero l'appuntamento di stasera dove ci sono in ballo tre punti preziosi. Cercate di capire, ha detto, io confermo tutto quello che ho detto su di lui nel corso di questi anni, andatevelo a leggere e firmatelo pure, ma non ho voglia di ripeterlo adesso, segno appunto di un momento veramente molto delicato e dell'importanza di questa sfida. Qui vediamo nella fotografia il primo contratto di Totò di Natale, da appunto quello che ha iniziato insomma con la società dell'Empoli, poi il presidente Corsi e qui in questa foto un giovanissimo Totò di Natale proprio con la maglia dell'Empoli. L'Isola Felice, la città, il piccolo mondo antico dell'attaccante, la vita in provincia tra una pizza di rosario al cristallo e lo shopping al Forsyth. insomma si va a ripercorrere anche quello che è stato il suo percorso in questa città, in una piccola città di provincia, tra cui appunto c'erano pochi riti, insomma poca vita mondana, molto lavoro e molto impegno. Qui invece è riportata nella fotografia la pagina di ieri del Tirreno al Cristallo in cui si parla solo di mercato, appunto in Casa Empoli fra campo e mercato, brillante sulle orme di Grelle e Bresciano sono un lottatore. In questo appunto uno dei giornali, appunto una della pagina di ieri, del Tirreno al Cristallo. Continuiamo la nostra rassegna sempre all'interno del messaggero per dare uno sguardo però anche agli altri sport, perché si parla di Lega Pro, Pordenone beffato dall'arbitro, vittoria sfumata al 94esimo. Vediamo appunto la situazione dei neroverdi che rimontano con la Feralpi Salò e in extremis si vedono annullare il gol del successo. Finisce quindi uno a uno tra Pordenone e Feralpi Salò. Il protagonista, Simoncelli, dà inutile a fondamentale l'esterno, ha dichiarato giocavo male, volevo andarmene ora però è tutto diverso. L'analisi non solo grinta, anche bel gioco in attesa di Migliorini e Bielanovic. La furia di Rossitto, voglio rispetto, il tecnico sull'arbitro ha detto errori che paghiamo sempre noi, ma il suo amico Scienza lo contraddice e dichiara. Ottima direzione, qui riportate anche le pagelle. Franchini sa dare qualità. Sguardo rapidissimo anche al volley, prima di cambiare, andare a vedere anche i primi titoli del Gazzettino. Città Fiera da favola, il Millennium Brescia alza bandiera bianca. La B1 femminile, le Friulane, stendono le seconde della classe. Prestazione da incorniciare per l'ITAS che rilancia. Città Fiera Millennium finisce 3 a 1, questo per quanto riguarda il volley B1. E passiamo così al Gazzettino, anche qui i principali titoli sportivi. Andiamo subito all'interno della pagina sportiva e vediamo appunto il titolo che riguarda l'Udinese con Totò per i punti salvezza. Bisogna appunto stringersi in questo momento di forte difficoltà, di estrema emergenza, ma oggi appunto l'Udinese dovrà pensare solo a far punti e si punta ovviamente, scusate il gioco di parole, su Totò di Natale. L'avversario Empoli, dubbio tra Verdi e Saponara, quindi ancora qualche nodo da sciogliere per quanto riguarda la formazione che potrebbe scendere in campo appunto questa sera. Ma un Udinese che sicuramente cercherà di puntare su quello che è il fattore gruppo, proprio per portare a casa punti salvezza. Stramaccioni, voglio punti per la salvezza, ha dichiarato la partita sarà sicuramente a ritmi molto accesi e sostenuti. L'allenatore ricorda il valore della gara di Empoli dopo la vittoria del Cagliari. Ora molte squadre devono guardarsi indietro. Uno dei dati che fa capire insomma come il fattore gruppo sia importante, soprattutto in questo momento, c'è anche appunto la convocazione di Giampiero Pinzi, che è, come diciamo, nell'elenco dei convocati, ma che però non è disponibile appunto per la sfida di questa sera. Elemento però importante per completare appunto il gruppo, un gruppo che in questo momento ha bisogno di essere molto compatto ed unito. In questi giorni abbiamo cercato di gestire al meglio i recuperi, speriamo di non risentirne, ha detto Andrea Stramaccioni su quella che è la condizione anche dell'infermeria, ancora fuori, ricordiamolo. Maurizio Domizzi, uno degli ultimi insomma in ordine cronologico ad entrare in quella che è l'elenco degli infortunati. Troppi gol presi nel finale di primo tempo. Si ricorda ovviamente anche questo caso che contraddistingue purtroppo l'Udinese in queste ultime partite, ma si parla anche di mercato. Pozzo torna a fare il Pozzo e fa il solito pieno di giovani. I tifosi chiedono alla famiglia Pozzo di spendere, di regalare un colpo simbolo, insomma il quagliarella che molto probabilmente arriverà. La società Tira Dritte presenta sul tavolo un piano verde, mercato di giovani, dove l'obiettivo ad oggi più esperto è un classe 1990, un 25enne quest'anno, non che l'Udinese non ci abbia provato a portarsi a casa il vecchio. C'è stato l'interesse per Pavoletti, classe 89 del Sassuolo, che vecchio non è, ma nelle strategie di mercato bianconere è già una stranezza, niente, quindi se si muoverà andrà a Cagliari. Per quanto riguarda quagliarella, l'Udinese lo voleva davvero, il ritorno di uno degli attaccanti più amati in Friuli, ma ad oggi il gioco non può riuscire, a meno di un miracolo che non sembra, però, alle porte. La curiosità che riguarda la sfida di questa sera, l'Empoli non vince in casa da novembre, dalla gara con la Lazio, appunto, del 9 novembre scorso, 2-1 sulla Lazio, per poi conquistare quattro pareggi a reti inviolate. In dieci gare disputate al Castellani, la formazione di Sarri ha conquistato 11 punti, soprattutto dimostrato di avere le munizioni bagnate, dato che è andata a bersaglio solamente sette volte, 2-2 con il Milan, 3-0 con il Palermo e 2-1 con la Lazio. Ed ora noi siamo pronti per collegarci con Firenze, dove c'è il nostro Gabriele Schiavi, pronto a darci tutte le indicazioni per questa giornata. Buongiorno Gabriele. Sì, buongiorno, buongiorno, prendiamo la linea qui da Firenze, sede del ritiro bianconero alla vigilia del match con l'Empoli, visto che è considerato che poi la squadra bianconera si recherà proprio nella vicina Empoli, 30 chilometri qui da Firenze, per affrontare questa sera la squadra di Sarri, con inizio alle ore 19. Qui vedete alle mie spalle la tavolata dove fra pochissimo la squadra bianconera sosterrà la colazione e poi ci sarà un risveglio muscolare e naturalmente ci sarà la lunga giornata che ci condurrà alla sfida del Castellani, una sfida molto attesa, che apre il girone di ritorno e la cui posta in palio è fondamentale sia per i padroni di casa e sia per quanto riguarda l'udinese di Andrea Stramaccioni. Andrea Stramaccioni che ha convocato anche Giampiero Pinzi, che si è aggregato alla squadra nonostante sia indisponibile, però l'apporto a livello di carisma e di carattere del centrocampista romano è fondamentale in questo momento per i bianconeri. Per quanto riguarda la possibile formazione che vedremo questa sera alle ore 19 alla Castellani, in attacco salgono le votazioni di Siriltero e Totò Di Natale come tandem offensivo, mentre a sinistra possibile ballottaggio tra Pasquale e Gabriel Silva in un centrocampo che poi verrà completato da Conè, Alan e Guillerme con Widmer sulla destra. In difesa invece tornerà Ivan Piris al fianco di Danilo e di Ertu, mentre in porta, dopo la parentesi di Simone Scuffetti, in Coppa Italia spazio a Carnesis. Questo per quanto riguarda la possibile 11 anti-Empoli. Da valutare invece la formazione avversaria, quella delle Empoli, dove in attacco potrebbero partire dalla panchina sia Tavano che Macaroni, sia l'ex Piotr Asielinski. Infatti il tecnico Sarri potrebbe affidarsi a Verdi trequartista alle spalle di Micelizze e Pucciarelli. Questo in base alle indicazioni. Naturalmente oggi sarà fondamentale la giornata anche per avvicinarci a questa sfida e per i due tecnici per poter fare le migliori valutazioni del caso. Di certo sarà una gara particolare per Totò Di Natale, che è molto legato ad Empoli, è molto legato alla società toscana, al presidente Corsi. E quindi è una sfida tra le due squadre, appunto di Totò Di Natale, l'attuale, l'Udinese, e quella passata, appunto, l'Empoli. Una gara delicata perché da una parte c'è l'Empoli, 19 punti in gradatoria, sull'altro versante l'Udinese ne ha 24, quindi l'obiettivo dell'Udinese è quello di tenere a debita distanza i rivali, mentre l'Empoli ha l'obiettivo di avvicinarsi ancora di più a una quota tranquilla di classifica. Quindi posta in palio veramente altissima. Calcio d'inizio fissato alle ore 19, l'arbitro sarà all'esordiente, possiamo definirlo così, visto che la seconda gara è in Serie A, Gersini, quindi un arbitro molto giovane e esordiente in Serie A per una sfida delicata con entrambe le formazioni, sia l'Empoli che l'Udinese, che arrivano da torti arbitrali nelle parentesi di Coppa Italia. Calcio d'inizio è fissato alle ore 19, noi saremo in collegamento già su Udinese Channel, dall'ore 18 con ampio prepartita, poi finestre durante il match, e poi tutti i commenti a caldo per quanto riguarda la sfida tra Empoli e Udinese. Qui dalla Toscana è veramente tutto, la linea che torna allo studio. Grazie, allora grazie al nostro Gabriele Schiavi, ci risentiremo ovviamente nel pomeriggio, adesso chiudiamo quelli che sono stati i giornali locali, andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che ovviamente parla dei top e dei flop di questa ventesima di Serie A, Tiri, Pogba e la Juve se ne va, il francese disintegra il muro Chievo con una rete in mezza, e Allegri dichiara vale 100 milioni, mercato sbarca Sturaro, opzionato Necid. Il flop invece riguarda l'Inter, Tiri Mancini e l'Inter resta mini, ne gioco ne grinta davanti a Tuir, e il Toro sbanca San Siro al 94esimo con Moretti, tecnico furioso, subito Diarra e Murillo. I posticipi di oggi, il Napoli va a caccia del terzo posto con il Genoa, e l'Empoli invece c'è l'esame strama. Fiorentina-Roma finisce 1-1, Gomez c'è, Garcia, Mister X, Viola in vantaggio, Liac rimedia a pareggio inutile per entrambi, per i giallorossi è il terzo di fila. Dentro la crisi del Milan invece, Tassotti, Senzaghi fallisce decisiva la sfida di domani in Coppa Italia contro la Lazio, Riecco Onda gioca dall'inizio. Il Palermo pari i beffa, ma come si fa a non vedere un gol così? Morganella segna il 2-1 alla Samp, l'arbitro di Porta sbaglia in due mesi, terzo caso di gol fantasma. Il Parma senza pace perde con il Cesena, alta tensione, come vediamo anche nella fotografia riportata tra Cassano e gli Ultras. Il rompipalone di Genegnocchi, Mancini dice, sono soddisfatto, ho chiesto ai giocatori di far girare la palla e me le hanno fatte girare parecchio. Andiamo nella pagina in cui si analizza la sfida dell'Udinese contro l'Empoli e vediamo appunto l'altro posticipo oltre a quello di Napoli Genoa, Sarri che dichiara d'ora in poi conta il risultato, invece stramaccioni, noi pronti. Anche qui le informazioni proposte sono quelle di cui abbiamo già parlato, 4-3-1-2 dell'Empoli, Udinese invece che proporrà il 3-5-1-1 con Terò alle spalle di Natale. Chiudiamo con i principali titoli anche del Corriere dello Sport, anche qui si prende tutta la pagina, la prima pagina, Pogba, a tutto Pogba, Juventus, più 7, Roma, un altro pari, i bianconeri scappano, il francese spettacolare segna e fa segnare, battuto anche il Chievo, giallorossi stop a Firenze, gli Aic risponde a Gomez. L'Inter crolla di nuovo, Mancini da Toir, e poi il Milan, il ritiro, Inzaghi in Coppa, si gioca il posto. Palermo era gol netto, dateci la tecnologia, un nuovo caso clamoroso a Genova, d'accordo anche l'avversario Mijailovic, che dice basta. Il Napoli con il Genova, cerca una vittoria per ritornare terzo, questo per il posticipo di questa serale 21, e poi il faccia a faccia con i tifosi tra Cassano e l'Ultra, il Parma impicchiata, Cassano ora dagli Ultra. Sguardo anche la prima pagina del tutto sport, Pogba esalta la fuga Juve Marziano più 7, il fuoriclasse francese, protagonista assoluto della vittoria bianconera contro il Chievo, segna un gol straordinario e propizia il raddoppio di Lieksteiner, con un gesto tecnico impressionante, intanto la Roma pareggia a Firenze, e scivola indietro. Libidine Toro, Moretti su assist di Maxi Lopez, punisce l'Inter al 94esimo, in attesa dei rinforzi promessi, ci pensano Ventura e i giocatori a compiere l'impresa, che ai Granata non riusciva da 27 anni. Nei box a pie pagina, frenata Samp, ma la rabbia è tutta del Palermo, e poi il dopo Pippo, si pensa quindi a dopo Filippo Enzaghi, più Tassotti di Prandelli. Siamo in chiusura quindi di questa rassegna stampa dedicata alle notizie di sport, ora nuovi approfondimenti invece su quelle di Cronaca. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata.